Ciao a tutti, oggi recensiamo la borsa della Eidonger, siamo sempre in compagnia del nostro amico Lord Fener e abbiamo una guest star, mia moglie Sonia, che ci presenterà questa bellissima borsa. Vai Sonia! Ciao a tutti, eccoci qui. Diciamo subito che questa dell'Eidonger non è una borsa, ma è uno zaino. Abbiamo uno zainetto con tessuto e pelle, con un bel taschino sul davanti, abbastanza capiente da poter tenere un portafoglio, un cellulare o documenti. Sul retro anche abbiamo un'altra tasca, le tasche sono sempre molto comode e tornano sempre molto utili quando si è in giro. Il motivo della decorazione è a righe e quest'anno vanno molto di moda. Possiamo vedere l'interno, eccolo qui, un'altra clip. È uno bello zainetto capiente, qui abbiamo due taschini con le lampo, anche questi abbastanza comodi. In più, come tutte le borse ormai, abbiamo i taschini per i cellulari e le chiavi. Lo zainetto è molto comodo, molto carino, utile sia per una gita oppure per la città, per la vita di tutti i giorni. Ciao a tutti! Ciao a tutti!